Dopo un anno di intenso lavoro all'opposizione del comune di Castellabate, il capogruppo di minoranza Alessandro Loschiavo ripercorre il lavoro svolto e le tante interrogazioni presentate. Un'intensa attività politica, quella promossa, prodotta dal gruppo consigliare d'opposizione, un'intensa attività politica costruttiva, alternativa, critica, propositiva, nei confronti di questo sistema di potere di questa amministrazione comunale, targata Costabile, Spinelli e compagni. L'abbiamo fatto nel corso di questi ultimi anni attraverso le numerosissime interrogazioni, segnalazioni, attraverso gli emendamenti e le dichiarazioni di voto prodotte in consiglio comunale. Basta consultare lo streaming di ogni singolo consiglio, basta monitorare e verificare la nostra pagina Facebook Siamo Castellabate per constatare il lavoro svolto, prodotto, per verificare la nostra passione, il nostro mordente politico che ci ha contraddistinto nel corso di questi anni. Per leggere i nostri manifesti, le nostre battaglie, non da ultima quella sulla CONSAC, sul passaggio dell'acqua e la gestione della depurazione alla società di Vallo della Lucania. Ricordo a chi ci ascolta e faccio presente che stiamo vagliando tutti gli strumenti legislativi che ci possono permettere di bloccare questa accelerata scelta politica voluta dall'amministrazione Spinelli. Porteremo avanti le nostre battaglie sul piano urbano comunale per dare uno scudo, per rendere immune questo territorio dalle speculazioni di lizie e cementizie. Le nostre battaglie difese dell'ambiente, dell'inquinimento acustico, del nostro territorio, del nostro mare, del nostro turismo. Tutte battaglie che perseguono un solo obiettivo, quello di dare credibilità, di dare stabilità, di dare trasparenza, di dare tremocrazia, di dare valenza a questo bellissimo territorio che è appunto Castellabate e soprattutto di fare delle opere pubbliche, delle infrastrutture che vadano in un'unica direzione di migliorare il sistema paese nel suo complesso. Quindi dobbiamo pensare e progettare per il futuro a dei parcheggi, bisogna pensare per il futuro a dare un assetto urbanistico a questo territorio, che abbia un filo conduttore, che dia possibilità al porto turistico di ampliarsi, ma di ampliarsi nel vero senso della parola, di tutelare quelli che sono i reperti storici e architettonici del nostro territorio. Ecco, dobbiamo andare in questa direzione per valorizzare sempre di più questa stridente cittadina che è appunto Castellabate. Noi su tutte queste tematiche, su tutte queste battaglie saremo presenti, saremo vigili, ci proporremo e quindi colgo l'occasione per ringraziare chi svolge questo lavoro insieme a me, Caterina Di Biasi, Luigi Maurano, Marco Rizio, nella compattezza, nella costanza, nell'entusiasmo che si è creato da due anni a questa parte. Quindi un'alternativa a questo sistema di potere, a questa amministrazione comunale. Stiamo ridando entusiasmo, stiamo ridando fiducia ai cittadini, stiamo dando loro una speranza. Lo facciamo nella quotidianità di rapporti di presenza che ci vede nei centri, nelle periferie, nelle campagne, nella quotidianità di tutti i giorni. Noi partiamo e andiamo avanti su questi presupposti. Ricordo il mio slogan in campagna elettorale, un unico interesse Castellabate. Ecco, io perseguo questo sogno, perseguo questo obiettivo, perché tutto deve passare attraverso una partecipazione condivisa, attraverso una democrazia aperta a tutto e a tutti. Solo così si può amministrare un territorio, facendo tesoro di quelle che sono le provocazioni, di quelle che sono le segnalazioni, di quelle che sono le critiche, di quelle che sono i malumori del popolo. E chiaramente ci batteremo per tagliare le tasse. Oramai Castellabate è abituato al prelievo forzoso voluto da Costabile Spinelli e la sua squadra, ricordiamo l'aumento della tassa sulla spazzatura. Nel primo trimestre del 2019, se le cose rimarranno così come stabilite dall'ultimo Consiglio Comunale, ci ritroveremo un ulteriore prelievo forzoso, con un aumento spropositato che va oltre il 100% della tariffa stessa. Quindi saremo attenti e presenti nel portare avanti, nel condurre battaglie in nome esclusivo dei cittadini del Comune di Castellabate. Buon anno, ne approfitto ai giovani, alle giovani coppie, alle famiglie, ai pensionati del Comune di Castellabate e dell'intero Cilento e soprattutto è anche a voi delle redazioni che permettete e date voce all'opposizione alla minoranza del Comune di Castellabate.